E' un po' di spate E' un po' di spate Ma come dovrà E' in Italia E' un po' di fumigazione Lo dice da sempre che è buono Ok, ti ho preparato l'acqua. Sto piano piano, eh? Freddo, sta già all'opera. E allora che ci prepari? Come hai detto? Questa è patata con una trovola. Trovola che non c'è. Quindi? Ci mettiamo il parmigiano. Con la scamorza tedesca. Con la scamorza tedesca. È bella. Ma ti devo aiutare? Che devo fare? Pelo le patate? Eh? E' bello io? Anzi, tu lo sai che fai? Eh, che devo fare? Pena tu le patate che piace di me. Ok. E' andata molto precisa. No, di patata una vecina. E' andata molto precisa. Allora, cosa facciamo con queste patate? Ora dovremmo aspettare. Le patate si mettono dopo. Ah, hai prima il soffritto. Cipolla, sedano. Ok. 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 E qua hanno fatto la pasta mista. Che qui non c'è in Germania. Credo senza pasta mista non c'è la pasta e patate. Che puzza. Cipolla, sedano e carola. Ok. Ok. Ti ho preparato l'acqua. Ah, ci hai messo le patate. Sì, sì. Devi aggiornare. Quindi dopo il soffritto le patate. Mmm. Questi patate. E' sano. E' sano. E' sano. E' sano. E' sano. No. Oh, questo anno dobbiamo preparare. E' sbagliare. Chiedi voleva il Grimbyle e la Femme. Scusami, scusami. Ok, ho messo un po' di sugo, allora? Devo metterlo un po'. Oddio, ci ha messo pure il grembiù e le carni. Che dici l'Italia? La sfamolta? Si, dai, vieni la metterla. Almeno ti aiuto. Allora, qui stiamo facendo soffriggere la pancetta. Spero che siamo confusi e ora la mettiamo da parte. Sbaglio così. Ah, meglio così. Non si dice. Così si fa. Si mette dopo. Vabbè, comunque, niente. La sta andando, quindi... Ah, io ho tagliato questa. Ho tagliato la scamozza. E basta. Ho mangiato le patate. Ok, ho appena buttato la pasta. Tu mi devi chiamare. Ma scusa, mi ho appena buttato la pasta. Deve essere giusto. Così, vedi. E dopo, se serve un altro po' d'acqua, ce la mettiamo. Ah, perché tu la fai proprio ritirare. Beh, sì, più cremosa. Non mi piace brudosa. E poi dico, questo scamorso quando la metti? Scamorso da figlio. Sì. Poi, ma poi devo dire la verità, se mi piace o no. Sì. E se non mi piace, poi ti prendi collera. Sì, ti piace. Ma poi ti prendi collera. Io non te lo dirò che non mi piace. Povero Bim, non te lo diciamo. E dire che ti piace. Vedremo dopo. Va bene. Questo qua lo voglio per decorazione. Questa è pasta e patate, vero ragazzi? Assorto nei semestri. Ma tu gli hai detto... Allora, noi quando andiamo al supermercato, ci sta a Svedino che sta nel reparto dei mestri. Per esempio, schiacciapatate, attrezzi della cucina. E io non lo trovo. Adesso stai insegnando le signore. Però è bravo. La dita è vendita, è un bravo cuoco. Ma io poi lo vanto sempre, perché poi un giorno cucinerà solo per me. Sì. Forza. Vai. Sempre a fuoco rigorosamente spento. Spento? Perché altrimenti fila dopo. Non si scioglie ma fila. Ma questo non lo sappiamo però come si comporta però. Non mi preoccupare, come dico io. Questo è caduto. Te lo spendi fuori. Ah, lo dici da solo. Ma la pancetta come hai deciso? Lo buttiamo dentro così. Vieni la cremosità. Crema. Ci fai la crema. Ci fai la crema, mamma. Ci fai la crema, mamma. Questi sono proprio Chef Giuseppe di Napoli. Eh. Crema, crema. E crema, crema. Prendi un po' di basilico, dai. Buono qua la crema. Tu fai la crema. Un po' di basilico. E' la crema. E' la crema. E' la crema. E' la crema. La crema. Il basilico. Ovviamente. Fai paura ragazzi Il parmigiano l'hai messo? No, il parmigiano dopo un pochino lo metto Vai Eh fai prima così e poi vediamo Vai Vai Saggi in diretta Bravo Buono Sì Si ancora con un grembiule Grazie. Grazie.